Oggi l'Europa è indietro rispetto ad altre realtà. Considerate che abbiamo vaccinato a malapena il 12% della popolazione. Insomma, con questo ritmo nessuna scadenza di quelle promesse sarà mantenuta. Per quanto riguarda i controlli fatti da EMA, a me fa quantomeno sorridere il fatto che mentre i paesi europei bloccavano AstraZeneca, loro venivano in commissione dicendo che tutto andava bene. I controlli vanno fatti e vanno fatti seriamente.